Il nuovo presidente della Camera, Laura Boldrini, è la terza donna alla guida di Montecitorio dopo Nilde Iotti e Irene Pivetti. Nonostante in Parlamento sia una debuttante, i deputati del centrodestra se la ricordano bene. Nel 2009, infatti, quando era portavoce per l'Europa meridionale dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, aveva duramente criticato la politica dei respingimenti, che bloccava ben prima dell'arrivo sulle coste italiane i barconi di immigrati in fuga dai propri paesi. È nata macerata il 28 aprile 1961 e per oltre vent'anni ha lavorato nelle agenzie delle Nazioni Unite, per le quali ha svolto diverse missioni in luoghi di crisi, tra cui ex Jugoslavia, Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq, Sudan, Caucaso, Angola e Rwanda. Alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio è stata eletta la Camera nelle liste di SEL, dove era capolista nelle circoscrizioni Sicilia 1, 2 e Marche.